Ciao a tutti, oggi siamo qui per raccontarvi un po' il test dei nuovi pedali Look X-Track Race Carbon che abbiamo effettuato negli ultimi mesi. Il tempismo è quasi perfetto perché la prima prova di Coppa del Mondo Cross Country 2018 è stata decisa allo sprint. Samuel Gaze ha battuto incredibilmente Nino Schulte e questo è accaduto in volata ed è accaduto perché a Nino si è staccato il piede dal pedale. La differenza tra i due? Sam Gaze montava pedali Look SPD compatibili. Gli X-Track sono i primi pedali a mountain bike prodotti da Look compatibili con il sistema SPD. Negli ultimi mesi noi li abbiamo utilizzati con una tacchetta generica, non Shimano, non Look e già utilizzata da qualche tempo. Non ha dato nessun minimo problema. Sulla bilancia il modello che abbiamo in test fanno registrare un valore di 329 grammi alla coppia. La cosa che ci è piaciuta di più è l'ampia superficie di appoggio della scarpa. La tacchetta entra facilmente ma soprattutto la scarpa si appoggia bene sulle due ali laterali del pedale. Questo permette di scaricare molto bene la potenza. In salita la pedalata è molto rotonda e si sente che la scarpa spinge letteralmente sul pedale, mentre in discesa questa superficie più ampia permette un miglior controllo sia alle alte velocità ma soprattutto nei pezzi più tecnici e a bassa velocità. Per il momento gli X-Track Race Carbon sono i nostri pedali preferiti della stagione. Continueremo a usarli, li useremo in gara, faremo qualche marathon con loro e vi diremo come andrà a finire.